Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano il mondo dei giovani imprenditori a confronto oggi a Borgo e Gnazia per la seconda edizione di Voci. Ci sono circa 700 le aziende che hanno partecipato all'evento organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria. E lì per noi Alessandra Bucci. Buonasera Alessandra. Sì Serena, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Dicevi bene, ci troviamo qui a Borgo e Gnazia per la seconda edizione di Voci. La Puglia si trasforma in Agora delle imprese nazionali. Siamo in compagnia di Mario Pili, vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Qui do il benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Benvenuti a Borgo e Gnazia. Come è andata questa seconda edizione di Voci che ha già registrato un record assoluto per la partecipazione delle imprese? È stato un grande successo. Anzi, è un grande successo perché mentre noi siamo qui a parlare, giù ne discutono Mentana e Molinari insieme. È un grande successo perché abbiamo superato i 700 imprenditori di cui oltre l'80% viene da tutta Italia. È un record assoluto per noi giovani imprenditori pugliesi. E abbiamo le principali firme, i principali direttori editoriali. E qua li stiamo portando alle nostre stanze, i nostri dubbi, le nostre perplessità su quelli che saranno i sviluppi del mercato. Viviamo in un contesto che è quasi surreale tra pandemia, guerra, crisi energetica, crisi dei semiconduttori, delle materie. Le difficoltà per gli imprenditori sono enormi e noi abbiamo bisogno di una sorta di agora mediatico in cui qualcuno ci indirizzi, ci aiuti a capire dove dobbiamo andare, dove devono andare i giovani imprenditori per far crescere e sviluppare sempre di più le nostre imprese. E lo stiamo facendo qui in Puglia. Sentendo anche altri imprenditori, il dato che è venuto fuori è che ci sono delle giovani menti che guardano già un futuro, mentre c'è un sistema italiano-europeo che va un po' rilento. Ed è per questo che non possiamo avere un ruolo da spettatori ma dobbiamo, come giovani, avere un ruolo proattivo. Dobbiamo essere noi, portando le nostre stanze, indirizzare la politica persa, quelle scelte buone, quelle scelte buone che possono davvero contribuire le nostre imprese a venire fuori da questo periodo e conquistare i mercati internazionali. Ringraziamo il Vice Presidente di Confindustria, Mario Prida, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a Telebari che ricordiamo è l'unico media partner di questo evento. È sempre un emittente lungiminante, guarda al mondo delle imprese ed è nostro partner su tantissime attività. E quindi grazie a Telebari. A voi studio. E grazie ad Alessandra Bucci che troveremo tra pochissimo per altri collegamenti. Intanto noi passiamo alla cronaca con l'assalto armato al portavalori sulla A14. tra Bitonto e Molfetta ferite, tre guardie giurate. Vediamo. Quello che vedete nelle immagini è uno di tir dati alle fiamme durante l'assalto al portavalori questa mattina sull'autostrada A14 all'altezza del chilometro 656 nel tratto compreso tra Bitonto e Molfetta ad agire un commando di 8-9 persone che dopo aver tentato di rapinare il portavalori si è guadagnato la fuga dando alle fiamme con benzina un camion in direzione nord e un autocarro in direzione contraria al fine di ostacolare l'intervento della polizia e dei mezzi di soccorso. Hanno esploso anche decine di colpi di Kalashnikov e di pistola. Nell'assalto sono state aggredite e ferite lievemente anche le tre guardie giurate del portavalori che hanno subito attivato il sistema di allarme Spumablock evitando così che il colpo andassi a buon fine. Con molta probabilità il gruppo di rapinatori si sarebbe dileguato saltando il guardrail. Si sono registrate lunghe code su quel tratto stradale che per ore è stato bloccato al traffico in entrambe le direzioni. Sulla dinamica sono a lavoro gli uomini della polizia stradale della squadra mobile di Bari. Tipico assalto portavalori con tecniche paramilitari. Verso le 7 di questa mattina hanno incendiato due mezzi pesanti sia in direzione nord sia in direzione sud per poi colpire il portavalori più avanti dopo anche un tentativo di speronamento. Hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco automatiche e semi-automatiche e non sono riusciti comunque a portare a termine la rapina anche per l'intervento del tempestivo della battuglia della polizia stradale che in lontananza già arrivava a sirene spiegate. Hanno cercato anche di aprire il furgone con una fiamma ossidrica dopodiché hanno fatto uscire le guardie e c'è stata una colluttazione però poi hanno dovuto desistere. E concorso unico regionale. Sono 127 infermieri firma. Ma raffortiamo l'assistenza a tutti i livelli. Le parole del direttore generale della ASL Antonio Sanguedolce. 127 unità in maggioranza donne soprattutto baresi 35 anni di età media. Il giorno della firma per gli infermieri vincitori del concorso unico regionale assunti dalla ASL Bari è finalmente arrivato. A partire dal primo giugno i nuovi assunti entreranno in servizio andando a rinforzare gli organici degli ospedali e delle strutture territoriali dell'azienda sanitaria barese. Per qualcuno è stata l'occasione per tornare a casa dopo anni di lavoro fuori regione. Per qualcun altro invece è stato il coronamento di un lunghissimo percorso professionale. Per esempio Francesco Scagliusi, 63 anni, primo in graduatoria. O Francesca Giove, ben più giovane, tornata da un'esperienza in Emilia Romagna. Sono stato infermieri della Polizia di Stato e sono in quescenza per aver raggiunto i limiti di età. Ho lavorato però anche in ospedale prima e anche in un RSA. Per me è il coronamento di un'attività professionale che ho svolto in diversi posti. Quattro anni fa mi sono trasferita a Ferrara dove ho cominciato a lavorare. Ho vissuto tutta la fase del Covid in pronto soccorso quindi è stato veramente difficile. Dopodiché ho vinto il concorso qui a Bari e ora sono di nuovo a casa. La tanto attesa infornata di infermieri andrà a supporto sia degli ospedali che delle attività del territorio soprattutto nell'ottica di recuperare il terreno perso in questi anni di pandemia a spiegarlo il direttore sanitario dell'ASD di Bari, Danny Sivo. Stiamo tentando di avere di ognuna di loro il profilo del portfoglio e delle competenze per provare cioè innanzitutto di avere attraverso un modalità di benessere organizzativo il lavoratore giusto al posto giusto. Probabile che l'allargamento dell'organico però non si fermi a questo passaggio. Il piano dei fabbisogni avrebbe previsto l'assunzione di 160 unità solo per l'ASD di Bari. Il concorso da cui però hanno attinto tutte le aziende sanitarie della regione per un totale di 600 infermieri in tutta la Puglia ha determinato l'assunzione di un numero inferiore di persone per questa provincia. Solo una volta terminate le assunzioni di tutte le ASD si avrà un quadro completo in attesa del nuovo piano dei fabbisogni che probabilmente porterà un ulteriore allargamento degli organici sia per gli idonei che attraverso le stabilizzazioni. Queste le parole del DG dell'ASD di Bari Antonio Sanguedolce. Noi adesso abbiamo assunto i vincitori il che non completa il fabbisogno di infermieri dell'ASD di Bari abbiamo ancora un margine che dobbiamo coprire in futuro ma soprattutto noi stiamo rielaborando il nuovo fabbisogno del prossimo bienio quindi per lavorare già in prospettiva del futuro che vedrà ancora di più presenti gli infermieri nell'architettura nell'organizzazione sanitaria dell'ASD. E l'ospedale Covid in fiera resterà fino almeno alla fine di maggio l'hab vaccinale invece no, non sarà più utilizzato. Lo ha comunicato l'ASD, vista la costante riduzione di accessi nel mese di maggio l'ASD Bari ha predisposto un nuovo calendario con tre hub distribuiti nelle diverse aree metropolitana ossia parliamo del Catino Bari, Sud San Michele di Bari e Nord Grumo Appula in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. L'hab Fiera delle Vante di Bari essendo sovradimensionato rispetto ai flussi attuali può erogare da solo oltre 2000 vaccinazioni giornaliere e in questa fase non sarà utilizzato. Le vaccinazioni anti-Covid inoltre continueranno ad essere assicurate in alcuni ambulatori vaccinali ordinari dei servizi di igiene e sanità pubblica. E si parla anche di USCA. La sospensione del servizio dell'unità speciale di continuità assistenziale a partire dal primo maggio in un momento in cui la circolazione virale non mostra alcun segno di significativa riduzione è una scelta gravissima e ingiustificabile. Lo sostiene l'epidemiologo ed ex assessore alla sanità della regione Puglia per Luigi Lopalco, recentemente uscito dal gruppo Conne e passato ad articolo 1, annunciando una mozione in consiglio. Quelle delle USCA prosegue un servizio faticosamente messo in piedi nel 2020 per far fronte al Covid e ha dimostrato in questo lungo periodo la sua fondamentale importanza sia dal punto di vista dell'efficacia che della tempestività dell'assistenza offerta ai cittadini. Lopalco conclude e per questo ho deciso di depositare un'interrogazione in consiglio regionale rivolta all'assessore al ramo per comprendere i motivi che abbiano portato a tale decisione. E adesso invece vediamo quale è l'andamento dei lavori previsti nel progetto Strade Nuove nel cantiere Fale in cui è in corso di realizzazione il sottopasso ciclo pedonale. Vediamo. Un sottopasso ciclo pedonale con marcia a piedi e circa 2,6 km di pista. Il cronoprogramma che procede secondo i tempi dovrebbe vedere il completamento dei lavori per settembre 2023. Procede il cantiere dell'Opera che la Ferrovie e Appolo Lucane stanno realizzando tra Viale Pasteur e Via Matarrese e un intervento realizzato nell'ambito del progetto Strade Nuove in virtù di un protocollo d'intesa firmato con Regione Puglia e Comune di Bari. Un intervento che avrà un impatto importante sulla viabilità dei quartieri Picone e Poggio Franco a partire dal cosiddetto quartierino con la soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge la realizzazione di quattro rotatorie la costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile un investimento complessivo da 18 milioni di euro i cui tempi di realizzazione previsti sono di due anni. Il progetto complessivo presentato ad ottobre scorso consta di 10 interventi di cui nove a cura di FAL ed uno del Comune di Bari. Attraverso queste opere, quattro rotatorie oltre a questo sottopasso ciclopedonale noi abbiamo la possibilità di unire due quartieri Picone e Poggio Franco che attualmente vedono degli impedimenti. Questo intervento è stato realizzato con una tecnica costruttiva abbastanza importante, consistente in una spinta eliodinamica il risultato più importante che mi rende particolarmente orgoglioso come direttore generale delle ferrovie apolulucane che è stato realizzato in sole 48 ore approfittando di un ponte festivo e soprattutto non interrompendo il servizio ferroviario. E torniamo adesso a Borgognazia dove vi ricordo si sta tenendo la seconda edizione di Voci dunque Alessandra torno da te. E rieccoci ancora qui Serena siamo in compagnia del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Puglia, Alessio Nisi Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Che Puglia sta emergendo in questa giornata? Una Puglia dinamica, frizzante devo dire fuori da ogni aspettativa ci siamo trovati a trovare tante persone tanti ragazzi che sono andati a stuzzicare i nostri relatori andando a sviscerare quelli che sono i temi della digitalizzazione, della sostenibilità della Copp 26, della guerra ucraina materie prime insomma siamo andati a prendere tutte quelle cose che neanche noi aspettavamo noi organizzatori e devo dire che ha riscosso molto successo e ancora ora il nostro evento che doveva durare due ore è durato praticamente quattro ore e mezza non riusciamo più a contenerci. La regola che non ci sono regole ha funzionato dunque? Ha funzionato alla grande e qui lo possiamo dire lo possiamo dire perché non diciamo altri contenuti. Un'ultima domanda lei ha detto Noi giovani imprenditori abbiamo lo sguardo lungo lo sguardo al futuro avete la sensazione che l'Italia al momento non riesca a stare al passo con il vostro desiderio di andare avanti? Sì assolutamente noi abbiamo constatato questo che alcune nazioni o alcuni continenti la Cina l'America tendono a guardare nel lungo periodo noi come Italia Europa guardiamo ancora troppo breve e quindi poi ci troviamo in queste difficoltà di carenza di materie prime di energia e quant'altro. Ringraziamo il presidente dei giovani di Confindustria Puglia Alessio Nisi grazie per essere stato con noi Grazie a voi arrivederci A voi studio Grazie ad Alessandra Bucci che ritroveremo tra pochissimo intanto noi siamo al termine del primo spazio del nostro telegiornale qualche istante di pubblicità ma non andate via torniamo subito con altre notizie E rieccoci insieme ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale partita oggi all'interno del parco 2 giugno la tre giorni di festa del primo maggio barese nella grande area verde sono allestiti tre palchi e quattro aree tematiche nelle quali in questi giorni si alterneranno spettacoli di musica tornei sportivi fitness class e video mapping il video è sul il parco scusate è suddiviso in quattro aree l'area food a cura di gnam è stata aperta alle 19.30 di questa sera e vede più di 10 food truck proporre la cucina tradizionale del territorio l'ingresso alla manifestazione organizzata da Soul Club e Bag in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione e con il patrocinio del Comune di Bari è completamente gratuito e per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi ciao Italo ben trovato buonasera Serena e allora siamo vicini alla festa dei lavoratori che è da sempre l'occasione per tanta gente di dedicarsi agli acquisti o allo shopping di primavera spesso dovendo fare i conti con le chiusure dei negozi nei centri abitati chi non ha programmato una gita fuori porta si affida ai centri commerciali per qualche ora di ricerca di un capo d'abbigliamento per altri e anche l'occasione invece per fare una semplice passeggiata lontano dalla città nel Barese per domenica prossima i più importanti centri commerciali resteranno straordinariamente aperti ad eccezione delle due sedi della Mongolfiera dei quartieri Iapigia e Santa Caterina le altre strutture apriranno le porte ai clienti si potrà andare al parco commerciale Casa Massima che il primo maggio sarà aperto dalle 9 alle 21 e per l'occasione si potrà accedere anche all'ipermercato Aushan a partire dalle 8 e 30 aperto anche il centro commerciale Bari Blu di Trigiano dalle 10 alle 21 mentre chi vuole allontanarsi verso nord può scegliere di fare tappa al Grand Shopping Mall Golfiera di Molfetta la grande struttura ridosso della Stata Resedici sarà aperta dalle 10 alle 21 ma resterà chiuso l'ipermercato bene con questo è tutto quindi per oggi Serena a te buona serata e grazie Italo Cinquepalmi noi invece torniamo da Alessandra Bucci a Borgognazia per l'ultimo collegamento Alessandra e sì Serena siamo ancora qui oggi in compagnia di Rocco Salatto presidente dei Giovani Imprenditori di Foggia buonasera e benvenuto buonasera che prospettiva sta emergendo della nostra regione e dell'Italia in questo confronto voci beh sicuramente si stanno analizzando diverse prospettive ormai abbiamo chiuso possiamo dire diciamo che abbiamo chiuso una finestra che era quella del Covid che ci ha dato diverse difficoltà dalla parte economica dalla parte sociale e quindi finalmente ci siamo ritrovati due anni anzi anche tre in questa location per fare questo questo format che ormai era diventato una una continuità per noi diciamo che è fondamentale adesso cominciare a capire le nostre aziende dove e che direzione devono prendere in vista della problematica della guerra della problematica dell'energia è un mondo incerto in questo momento e quindi questi incontri queste opinioni questo scambio di opinioni tra i nostri relatori e noi giovani imprenditori servono proprio per farci un'idea di quello che potrebbe essere il nostro futuro devo dire che a dispetto di quello che è emerso anche da altre interviste il suo che opera nel settore della sanità e case di cura è un bilancio un po' in chiaroscuro perché la sanità in Puglia sconta ancora gli errori del passato e c'è tra l'altro l'emergenza Covid che non è ancora archiviata e come dire ha falsato un po' il sistema economico sì noi siamo una regione come tante altre in pieno di rientro da parecchi anni abbiamo avuto noi come sanità privata abbiamo avuto dei tagli notevoli purtroppo abbiamo anche delle tariffe sulle prestazioni ormai vecchie abbiamo i contratti di lavoro sempre chiaramente in aggiornamento e quindi rispetto a quella che poteva essere la generazione diciamo di mio padre o comunque dei nostri genitori viviamo un momento difficile dove l'errore non è possibile dove i regolamenti vanno studiati vanno seguiti vanno lottati per cercare di portare un valore in più oltre a economico per le nostre aziende ma soprattutto come qualità e come assistenza quindi la nostra missione ovviamente è sempre nei confronti dei cittadini e nei confronti dei malati questa è la cosa principale per noi però c'è una grande difficoltà nella nostra regione grazie grazie per essere stato con noi a voi studio grazie ad Alessandra Bucci e grazie ovviamente ai suoi ospiti noi andiamo avanti con il nostro telegiornale in occasione della quindicesima giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo torna il gran gala dell'autismo organizzato dall'associazione Vinci con noi torna il gran gala per l'autismo l'evento in occasione della quindicesima giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Vinci con noi appuntamento sabato 30 aprile alle ore 20 nella sala ricevimenti Corte Nuova Casa Massima si torna in presenza a poche ore dall'inizio si registra già il sold out l'evento è il punto di partenza del progetto Facciamo Rete con l'obiettivo di creare una rete operativa di tecnici ed esperti nel settore a favore delle persone con disabilità per progettare percorsi terapeutici di acquisizione di autonomie personali alla base dell'integrazione sociale mediante la pratica dello sport e quest'anno si celebra la ripartenza dopo la crisi pandemica con cena di gala e spettacoli dal vivo esibizioni e testimonial d'eccezione ospite d'onore Manila Gorio ma spazio anche ai terra rossa e ai tesserati della SSC Bari ad accogliere gli ospiti un grande tappeto blu colore dell'autismo ma anche della speranza i temi della serata saranno pace amore e accettazione lo slogan scelto io ho il diritto di contare e parte del ricavato dell'evento sarà destinato ai bimbi ucraini affetti d'autismo ma anche al supporto del progetto Bari for Special che consente agli atleti tesserati con l'associazione di partecipare gratuitamente agli allenamenti e alle attività formative finalizzate a partecipare al campionato di calcio della divisione calcio parolimpico e sperimentale della FIGC vestendo la maglia della SSC Bari e Coez è tornato ieri a Bari con volare tour e ha registrato il tutto esaurito al Demode Club vediamo Coez torna a Bari e lo fa registrando il tutto esaurito al Demode il club scelto dall'artista come prima tappa pugliese del suo volare tour partito lo scorso 2 aprile da Brescia Finalmente torna la parola sold out nel Demode e finalmente tornano i live al Demode e dopo 22 anni di Demode e dopo due anni di fermo forzato è bello respirare l'area dei concerti e dei live e soprattutto vedere il sano divertimento di tutti questi ragazzi che sono felici che ci ringraziano ci fermano e sembra come se li stiamo regalando chissà cosa tantissimi ragazzi arrivati da tutta la Puglia in fila per entrare all'interno del locale già delle prime ore del pomeriggio per accaparrarsi un posto il più vicino possibile al palco palco dove poi in serata Coez si è esibito con brani come Vutangle di Arti Faccia da Rapina tratti dal suo ultimo album volare ma anche sempre bello la musica non c'è agli sporche pezzi ormai evergreen del cantautore e poi ancora siamo morti insieme brano del 2013 ma in una versione del tutto nuova lontana da me faccio un casino e tutte rigorosamente cantate a squarciagola dai fan di Coez che ha saputo sul palcoscenico del Demodè far divertire ma soprattutto ha saputo trasmettere emozioni quelle emozioni che solo i live dopo due anni di stop e aperture ridotte riescono a dare qui per Coez da che ora dalle 5 il pomeriggio come mai ti piace Coez l'ho ascolto da tanto tempo dal 2013 più o meno e finalmente quest'anno dopo anni di covid restrizioni riesco a vederlo ci piacciono molto le canzoni anche perché a me piacciono anche le parole è il regalo di compleanno però me lo sono pagato io in realtà siamo qui per le nostre fidanzate sicuramente è un cantante che ha segnato molti periodi particolari comunque ha dato gioia e è riuscito anche ad estrimere i sentimenti insomma quindi siamo qui per passione e per cuore oggi sai che voglio fare fare come quando piove devo dirti tante cose ma non so da dove iniziare ti vorrei iniziare bella che la musica non c'è bella che la musica non c'è ciao amore ed è stato inaugurato a Bisceglie nella Masseria Zappino l'evento Palestra Natura ce ne parla Massimo Pillera oggi è una bellissima giornata qui a Zappino perché ospitiamo Palestra Natura una manifestazione voluta da Alconi per riprendere un po' quelle che erano le nostre abitudini prima del Covid diciamo stare insieme stare all'aperto stare alla natura e fare dell'attività psicofisica con questi ragazzi e questi bimbi oggi è davvero emozionante vedere la loro felicità il loro sorriso e si sente davvero la voglia di riprendere la vita e soprattutto la voglia di tornare a stare insieme all'aperto 300 alunni che provengono dalle scuole di Bisceglie e di Andria della Iannuzzi di Andria una giornata che ancora una volta l'insegna della cultura ma soprattutto del sano divertimento 5 step di carattere sportivo con l'orienteering la mountain bike l'atletica leggera la ginnastica aerobica e il tiro con l'arco e poi uno step di carattere culturale per conoscere le bellezze storico culturali artistiche e tutto quello che riguarda il paesaggio di questa veramente meravigliosa location ricordo che a questa manifestazione naturalmente hanno aderito 7 comuni della BAT e anche la provincia BAT oltre alla Lilt che è l'associazione per la prevenzione dei tumori che quest'anno festeggia i 100 anni e naturalmente tutti gli amici delle varie associazioni sportive del territorio che con noi collaborano per questa attività e in chiusura torniamo a parlare di benessere e salute si chiama Idrafaccial il trattamento innovativo per purificare la pelle ne abbiamo parlato nella nostra rubrica con grazia Anna la Franceschina assistente allo studio medico 2B del dottor Fabrizio Barattolo ben ritrovati oggi sono all'interno dello studio 2B del dottor Fabrizio Barattolo e sono in compagnia di Grazie Anna tema al centro della puntata di oggi uno dei trattamenti innovativi dello studio Barattolo Idrafaccial innanzitutto ti chiedo Grazie Anna di cosa si tratta? Allora Idrafaccial è un trattamento innovativo per quanto riguarda la pulizia profonda del viso ma non solo di questo è un trattamento che è diviso in diverse fasi è un trattamento che ha diversi step da seguire si parte con la detersione con l'esfoliazione attraverso un peeling e poi l'estrazione di tutte ciò che sono le impurità che si posano sul nostro viso sebo eccesso di pelle pelle morta cellule morte punti neri e tutte quelle impurità che possono appunto ritrovarsi sul volto in sede di trattamento vengono viste le varie appunto caratteristiche della pelle della paziente in base a questa consulenza a questo piccolo consulto che si ha si scelgono i tipi di prodotti da utilizzare e eventualmente anche dei booster specifici per personalizzare il trattamento e poi nel post la paziente ha la possibilità anche di vedere il prima e il dopo esatto il macchinario ha all'interno un becker dove rifiniscono tutte le impurità raccolte quindi è possibile vedere tutto ciò che eliminiamo dal viso c'è qualche controindicazione di questo trattamento? assolutamente no non si crea in alcun modo né lesione né nessun tipo di controindicazione è semplicemente consigliabile l'esposizione diretta subito dopo il trattamento però è normale anche l'utilizzo di una crema soprattutto in questo periodo è nel periodo estivo che sta arrivando infatti questo trattamento è bene farlo proprio adesso per preparare la pelle al periodo estivo esatto diciamo che questo trattamento può essere fatto in tutti i periodi dell'anno adesso prima dell'estate perché durante l'estate c'è una diciamo produzione anche di sebo se si vuole stare in ordine per tutta l'estate ma anche poi subito dopo l'estate non c'è alcun tipo di problema con il periodo insomma e allora io ringrazio Graziana per tutte le spiegazioni che ci ha fornito oggi grazie mille per oggi è tutto lì nel studio e noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di 3D Meteo la tendenza per la giornata di sabato quando ci sarà un cedimento graduale dell'anticicrone al nord Italia e delle precipitazioni che sabato nella seconda parte interesseranno il nord ovest e poi domenica anche parte del centro Italia Sardegna e nord est intanto però guardiamo la nuvolosità perché sarà una giornata con più variabilità di passaggio sulle regioni settentrionali e sulla Toscana trova invece sole una bella giornata di sole sulle rimanenti zone del centro sud osserviamo anche le precipitazioni dicevamo in giornata tornerà qualche pioggia anche qualche breve temporale in alcuni settori del nord ovest Liguria area alpina poi in serata anche la Valpadana centro occidentale per quanto riguarda invece la sintesi dell'Italia dicevamo questo cedimento dell'anticiclone al nord ovest in sede alpina altrove invece al centro sud ancora bel tempo con temperature diffusamente tra i 20 e 24 gradi gli approfondimenti gli ulteriori aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo all'interesse del nord ovest di Trebi